fabio ciao alberto allora il maione colombiano esatto alla moda antina decora alta quota è meraviglioso l'ho comprato lo comprai ahimè decenni fa a washington a un mercatino e insomma resiste agli anni quello dura una vita sì sì no è una cosa pazzesca cioè poi una lana grezza quando l'ho comprato puzzava di pecora non so se hai presente l'odore di lana grezza che veniva dai lanifici insomma dalle dalle greggi tosate nel mese di maggio senti questa crisi è molto interessante questa crisi di governo e perché sai c'è una lettura come dire indotta da emilia che è abbastanza semplicistica vogliamo dire per non per non usare aggettivi dispregiativi io vorrei provare a dare così non una versione alternativa che non è che vogliamo rubare il lavoro ai politologi però una chiave di lettura che potrebbe essere altrettanto solida di quelle che leggiamo sui giornali no per esempio per esempio partiamo da un dato hanno cominciato a fare i con i sondaggi da un po di tempo sulla lista conte no quindi se conte si presenta alle elezioni con una lista sua quanto vale elettoralmente e i sondaggi danno percentuali a doppia cifra tipo 10 12 per cento no come indice di più eh avrei pensato di più perché si presenta bene piace del signore ma diciamo così mettiamo che sia un 10 12 per cento teniamoci bassi no a chi li va a togliere questi voti non a salvini non a berlusconi non alla meloni non ai cinque stelle se non in misura marginale le toglie al pd quindi siccome non sono solo io che vedo questi sondaggi se fossi in zingaretti non mi preoccuperei tanto di Renzi non mi preoccuperei di conte e allora vediamo un po' che cosa fa il segretario del pd che potrebbe vedere i voti dimezzati se si fa le elezioni anticipate beh se le toglie il rivale per così di deve depotenziare il rivale in qualche modo e allora lo pompa no guarda hai la maggioranza non ti preoccupare vai in parlamento la facciamo vedere noi a Renzi noi guarda mai più con Italia Viva ti assicuro ti veniamo dietro Giuseppi siamo tutti con te non ti preoccupare poi se in Parlamento in Senato perde la conta e chi ci rimette è conte scusate il gioco di va a casa ma non è che perdi consensi eh Fabio sì però metti un altro a Palazzo Chigi lasci decantare il ruolo lasci che la fiducia diciamo così venga riindirizzata su su un'altra figura comunque ti togli dai piedi uno che ti fa ombra o che rischia di farti ombra anche se lui poi come si ventila dovesse diventare il frontman di una coalizione 5 stelle pd a Zingaretti non farà piacere una cosa del genere non so se sei d'accordo no ovviamente no è un po' è un po' tirata questa ipotesi però però la politica italiana è ben oltre e poi insomma tu senti che nel pd molti la pensano come Renzi molti non sono convinti che questo governo funzioni bene eh quindi tutto sommato non è che Zingaretti abbia un consenso granitico dietro poi magari nelle dichiarazioni pubbliche questo non emerge ma quando leggi un po' di retroscena ti informi un po' ehm da persone che hanno eh in qualche modo il polso della situazione vedi che eh non è tutto oro quello che luccica e quindi mh ieri sera per esempio Casini che è un volpone eh di lunga eh di lunga di lungo corso ha detto ma voi siete sicuri che Conte ci vada in Senato? da dove sta scritto? non è che c'è una mozione di sfiducia quindi lui va alla Camera dove bene o male il voto lo supera agevolmente perché le linee pd hanno una maggioranza anche abbastanza ampia e poi si vede quindi se fiuta la trappola o se si accorge che questi voti per arrivare diciamo a vicino a centosessanta senatori eh non ce li ha si va a dimettere va la mattarella si dimette mattarella così in eh per prassi da prima repubblica gli ridà l'incarico e lui a quel punto ha più facile gioco a menare le danze per un conte terra il PD ha più difficoltà a scaricarselo facendo fare il lavoro sporco ad altri no? ma se Renzi si si astiene come ha detto che come ha detto che farà il governo non cade non c'è la sfiducia ma guarda se si astiene comunque il il governo deve avere più voti di quelli dell'opposizione quindi ah se si astengono si astengono tra l'altro c'è questa storia che in Senato l'astenzione è un po' come un voto contro perché fa abbassare il quorum insomma ci sono queste cose però ammettiamo pure che eh Renzi si astiene arrivano un po' di voti da Mastella arrivano un po' di voti da questi di Italia 23 insomma un assortimento di di personaggi un po' di secondo piano più eh eletti all'estero magari riesci a tirar dentro qualche ex grillino che si era iscritto al gruppo misto e fai conto che hai una maggioranza raccogliticcia che si regge su due o tre voti di maggioranza non è che hai risolto la situazione no però allunghi il brodo eh ma di quanto e che brodo è è un brodo indigesto si tratta con Renzi si tratta con Renzi diciamo così comunque ha bisogno di visibilità comunque ha bisogno dello scalpo di Conte e invece andare avanti cioè sostituendo quattro scappati di casa ai voti di Renzi diventa un calvario ancora peggiore perché poi questi qui vorranno il loro tornaconto Mastella ha detto noi siamo responsabili ma non siamo fessi quindi poi ti danno pure il consenso se gli firmi una cambiale in termini di posizioni di potere di polfrone di quello che sia però poi la cambiale quindi così dal mio punto di vista quello che ci viene spiegato nelle analisi non è proprio tutta la storia o comunque è solo una parte della storia e non è neanche la trama principale per cui così io direi di tenere a mente questo qual è l'interesse vero del PD in tutta questa storia per poter interpretare gli eventi in una chiave diversa in una luce che non è quella che viene dal teleschermo ma è una luce che illumina la scena in modo più pervasivo quindi secondo te l'obiettivo del PD no no ma ci sta eh non è che l'obiettivo del PD sarebbe quello di non prolungare il governo Conte e ovviamente evitare di andare alle elezioni con Conte che si fa la sua lista esatto perché poi c'è sempre questa storia che il governo nuovo cioè se arriva un qualche di un altro al posto di Conte o durerà almeno sei sette mesi e quindi significa che il governo che dura fino al 3 agosto 2021 dura fino all'elezione del Presidente della Repubblica più o meno perché il 3 agosto se non ricordo male comincia il semestre bianco quindi 3 agosto sono 8 meno meno 1 6 sì sì vabbè senti senti vogliamo fare ci sono sul nostro canale YouTube ci sono un po' di ascoltatori che ci hanno fatto che ci hanno chiesto alcune cose interessanti adesso le mettiamo le voglio condividere hai anche quell'email che ci hanno scritto? sì sì anche quell'email perché sono tutte considerazioni che riguardano un po' il recovery fund e altre e le conseguenze del di un default nell'Italia se i soldi del recovery fund non vengono utilizzati al meglio dunque vediamo un po' Fabio secondo me il default lo facciamo anche se li utilizziamo però dipende chi li utilizza cioè dipende chi proprio prende questi soldi e inizia ad allocarli a progetti seri seri questo cioè non si non si riesce a uscire da questo la dinamica della banca centrale è separata dai recovery fund per cui capito sì 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 è separata dipendente dal flusso del recovery fund assolutamente e abbiamo parlato nella volta nella puntata precedente la banca centrale europea non potrà in eterno tenere a galla i paesi che non sono in grado di gestirsi da soli tra l'altro anche da Bruxelles stanno cominciando ad arrivare segnali sempre più pressanti numero uno sul fatto che siamo in ritardo e che una crisi di governo provocherebbe ulteriori ritardi nella presentazione del piano numero due che i progetti non sono quelli prescritti dal piano non hanno le caratteristiche che sono state concepite per il recovery fund cioè il recovery fund è dopo questa pandemia come dopo una guerra ci sono distruzioni infrastrutture da rifare eccetera eccetera il covid non è stata una guerra in senso come dire letterale però ha portato una disruption ha cambiato un po' il paradigma quindi il recovery fund dovrebbe essere lo strumento che alloga risorse alla ricostruzione questi hanno messo dentro il recovery fund progetti vecchi cioè hanno fatto lo swap come si dice di infrastrutture opere per quello ti dico che il default potrebbe avvenire anche indipendentemente dal recovery fund sì 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 no non è che non è che quello ci salva non è una rete di protezione che elimina il rischio potrebbe comunque avvenire ma l'unica strada per evitare il default è prendere 200 miliardi che poi sono anche un po' di più e diciamo così dare un colpo di reni cioè imprimere un impulso all'economia italiana tale da farla diciamo non ci credo non ci credo non credo che sia possibile Fabio questo neanche io penso che sia se voglio essere ottimista penso che le probabilità siano 50 e 50 ecco alla pari l'eventualità di riuscire a evitare un default però voglio dire io ci dobbiamo sperare ecco mettiamola così no certo l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della ragione no comunque vediamo un po' che cosa leggi pure i commenti da youtube guarda un po' sono cose molto abbastanza interessanti ok vado qui ci sono dimmi se si vede il lo schermo ecco qua allora il primo il primo la prima domanda che viene posta è questa di Michele Bianchi grazie per questa lucidissima panoramica in caso di default quali potrebbero essere le conseguenze su quella piccola fetta di eccellenza industriale che traina oggi il paese verrebbe soffocata si ricollocherebbe in altri stati o grazie al mercato unico potrebbe riuscire a reggere nonostante il momento critico tu che dici albert come la vedi tutto ossia in parte verrebbe soffocata perché i tassi di interesse la liquidità le banche le compagnie in parte in parte chi vende al 95% di export potrebbe anche stare in piedi soprattutto se è cash rich positive con un buon fuso di cassa e sicuramente nella mente di tutto è quella di ricollocarsi e poi ci sarebbero parecchie occasioni d'oro per chi ha i soldi in attività liquide all'estero o per i fondi per spasolare tutto esatto a quel punto ci sarebbe proprio un'invasione sarebbe un interesse fortissimo a livello internazionale dei voucher funds oppure anche di quelli che fanno un po' aggregazioni o ristrutturazioni di venire in Italia e prendersi i pezzi pregiati del sistema economico sì c'è poco da sarebbe sicuramente un sell out anche perché poi un gruppo straniero riuscirebbe a trovare credito per finanziare il working capital per finanziare l'espansione per finanziare la produzione di queste aziende un'entità italiana come dici tu che deve affidarsi alle banche che andrebbero a finire una situazione disastrosa perché hanno in pancia praticamente una fetta enorme del debito pubblico italiano quindi le banche entrerebbero in sofferenza per non dire di peggio e quindi ci sarebbe un credit crunch una stretta creditizia brutale senza credito non si fa né industria né altro poi c'è allora invece un po' più in basso Carlo Di Maggio Carlo Di Maggio dice grazie a Fabio Scacciavillani le chiederei quando volesse cimentarsi insieme con Alberto Forchielli un'analisi uguale che fosse più realistica del re come si usava a dire una volta dell'impatto sull'economia reale che avrebbe la stretta degli acquisti di debito italiano da parte della BCE più asterilità di welfare minore liquidità immobili liquidabili vi chiederei di indossare l'occhiale economico del medio borghese di questo paese quindi l'ottica dal punto di vista del povero Cristo che come dice il nostro Carlo Di Maggio pare chiaro essere soggetto ad un ineluttabile miserrimo futuro allora questo è un po' si ricollega a quello che abbiamo detto si vale quello che hai detto prima Fabio e comunque aumento delle spread stretta del credito le banche in sofferenza stretta del credito e dice come se ne viene fuori quindi maggiore austerità e beh per forza no devi accendere al MES fondi europei condizioni europee tutto questo si traduce in Troika sostanzialmente esatto abbiamo bisogno di credito ulteriore però questo credito ulteriore non ce lo danno non ce lo danno a condizioni vantaggiose come quello che stiamo ottenendo adesso attraverso le BCE a tassi negativi ma ma verrebbe altamente condizionata e poi effettivamente c'è questa parte e poi dico l'altra l'altra cosa che guardi gli immobili sono già illiquidabili adesso esatto cioè nessuno compra gli immobili oggi quindi io non vedo non vedo uno scenario peggiore di quello attuale per quel che riguarda gli immobili tranne quelli di prestigio super prestigio a Milano poco che è rimasto ancora si fanno vedere i fondi però non provate a vendere un appartamento a Chieti e tra l'altro con i tassi in salita e con diciamo meno gente con i soldi in tasca chi è che ha la disponibilità di accendere un mutuo e quale banca che avrebbe problemi di requisiti di capitale sarebbe in grado di sarebbe in grado di 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 aumentare l'esposizione al settore immobiliare quindi insomma per concludere sì che arriva se si abbatte sul governo italiano un vento di crisi un vento di default ritorniamo a quello che abbiamo già visto nel 2011 che siamo riusciti a evitare perché Monti ha fatto la riforma Fornero che piaccia o meno questa è la verità è solo che questa volta la faccenda sarebbe molto più molto più grave perché ormai tutte le munizioni della banca centrale europea del della mutualizzazione diciamo degli impegni finanziari a livello europeo sono già stati presi non ci sono altre strade ragionevolmente percorribili per far uscire l'Italia da una situazione disastrosa senza conseguenze grave questa è il vero la vera questione che dovrebbe essere dibattuta oggi nel nell'arena politica invece tu vedi si continua con i pettegolezzi Calenda ha chiamato Mastella Mastella ha chiamato Calenda Renzi sta antipatico a Conte Zingaretti non si parla più con la bella Nova insomma c'è una analisi caricaturale da pettegolezzo di barbiere della crisi senza che io oggi ho visto in mezz'ora no? C'è l'annunziata Paolo Miedi che hanno intervistato Renzi Calenda e Provenzano un ministro del ministro del sud mi sembra del 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 governo non si è mai entrato nel merito cioè non si è mai detto ma vabbè questo allora la crisi sostanzialmente si fa perché Renzi ha torto a ragione antipatico e non è antipatico ha detto la strategia del governo per l'uso di questi fondi europei è una strategia perdente i programmi sono stati fatti male ci sono stati presentati all'ultimo momento alle due di notte e con l'indicazione di approvarli di non rompere troppo le scatole noi non ci stiamo vogliamo discutere del merito la posizione si può discutere o meno del 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 modo del metodo però tutto sommato sono stati posti sono state poste questioni rilevantissime o in tutta l'intervista mezz'ora le domande erano sempre del tipo ma allora lei si astiene ma allora che cosa fa e ma allora con chi avete parlato e ma perché non avete fatto così e perché non avete fatto con lì e vi sembra responsabile vi sembra il responsabile cioè tutte domande che non hanno avuto mai come oggetto i temi i temi veri un giornalismo di questo stampo produce la politica dell'uno vale uno dispiace doverlo dire dispiace che anche persone così con una certa storia alle spalle poi si prestino a fare un'informazione mediocre e questo è un po' un po' il discorso Alberto secondo me ma niente da aggiungere Fabio va bene allora senti ci lasciamo vediamo che succederà martedì in senato ammesso che Conte si presenti in senato e rinnoviamo l'invito a chi ci ascolta a chi ci apprezza di mettere un po' di like di iscriversi al canale se non l'avete fatto di diffondere un po' di aiutarci a diffondere queste nostre elucubrazioni sui social e tra l'altro se come abbiamo fatto oggi se avete delle domande scrivetele nei commenti su YouTube noi alcune insomma ad alcune rispondiamo per iscritto altre le possiamo utilizzare come spunto per le puntate future e vi ricordiamo che abbiamo anche un canale audio su speaker e su iTunes se volete ad esempio sentire le nostre le nostre puntate potete scaricarle sull'iPhone o dove che o su un MP3 su un reader MP3 e sentire veramente andate in palestra fate jogging o siete in macchina insomma i mezzi non mancano e vi ringraziamo di nuovo per questo per questo vostro sostegno grazie ragazzi grazie ciao ciao